Ma tu sei di sinistra o di destra? Come mai mi domandi una cosa del genere? Ti occupi di politica? No, per carità, così. E' come domandare in che cosa credi? Sono parole grosse, Giuliana, che richiederebbero risposte precise. No, in fondo non si sa bene in che cosa si crede. Si crede nell'umanità, in un certo senso. Un po' meno nella giustizia. Un po' di più nel progresso. Si crede nel socialismo. Forse. Quello che importa è di agire nel modo che si ritiene giusto. Giusto per sé e per gli altri. Cioè di avere la coscienza in pace. La mia è tranquilla. E' questo che vuoi sapere? Hai messo insieme un bel gruppetto di parole. Eccoli. C'è qui. C'è qui. C'è qui. E' qui. Grazie a tutti.